I sindaci di Novara, Alessandro Canelli, Borgomanero, Sergio Bossi, e Gozzano, Gianluca Godio, hanno realizzato un video di auguri per i lettori di News24. È stata l'occasione, inoltre, per loro, per fare il punto sull'attività svolta dalle rispettive amministrazioni nell'anno che sta per concludersi. Ecco, in sequenza agli auguri di Canelli, Bossi e Godio. Abbonati a soli 9,90€ all'anno. Gioielleria Rossi, il nuovo negozio in via Briona, a Domodossola.